Da dove arrivi? Da quanto tempo sei qui in attesa? Come mai sei qui? Da qualche oretta già. Sei avvicinato al momento, sei emozionata perché faccio danza da 10 anni, quindi mi piacerebbe molto lavorare nel mondo dello spettacolo. Emozionata? Sì, è la prima volta. Sempre un'emozione. Perché vuoi diventare divina? Mi piace il mondo dello spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è bisogno di trovarsi un calciatore.